In questo video vedremo come procedere alla preparazione per faccette con spessore 0,3 decimi di millimetro. Iniziamo subito con lo stampare in bocca del nostro paziente il mocap ottenuto dalla ceratura, ceratura ottenuta dalla nostra pianificazione. Come potete vedere la mascherina in silicone ed è importantissimo realizzare la mascherina in questa maniera andando a ritagliarla perfettamente a livello del margine gengivale. Quindi proveremo la mascherina, vedete che la parte superiore della mascherina segue perfettamente il margine gengivale e questo ci consentirà di stampare in bocca al nostro paziente un mocap più preciso e rifinito possibile. Questo è un lavoro di grande precisione, richiede sicuramente l'utilizzo di sistemi ingrandenti per essere ovviamente quanto più precisi e rifinire al massimo il margine che è la zona per noi fondamentale. È una zona fondamentale per noi perché ci consentirà di verificare la perfetta aderenza, la precisione dei nostri restauri, ma è fondamentale per l'odonto tecnico avere un margine ben definito e ben rifinito.